L'anno che lasciamo alle spalle ci ha visto affrontare situazioni inimmaginabili. Dopo due anni di pandemia pensavamo che le cose potessero solo migliorare. Invece una guerra, il caro energie, l'alluvione, anche il terremoto hanno portato nuove sofferenze e nuove difficoltà nelle nostre vite. Ma Fano ha sempre saputo reagire con grande determinazione, con una grande capacità, quella di essere una comunità che al centro ha un punto forte, quello di essere solidale. E quindi le sfide che abbiamo di fronte sono tante, sono complicate, ma abbiamo la speranza di saperle cogliere perché la nostra forza è proprio quella di essere una comunità coesa dal cuore grande. Un cuore grande, sì, fatto di tante persone, uomini e donne, che grazie alle loro competenze, al loro servizio per gli altri, fanno tantissime cose. Fanno quei servizi che ci riguardano tutti i giorni, fanno quei servizi per il bene comune. E allora ecco, a tutte queste persone va detto un grazie generoso, un grazie della città a tutti voi. Sono qui, al mare, su un'imbarcazione per la pesca, perché il mare ci lega fortemente a partire alla nostra cultura e allora in questo messaggio augurale voglio farlo proprio da qua, nel rappresentare anche tutto quello che sta dietro al mondo del mare, della pesca, i sacrifici, lo spirito di stare insieme, l'essere comunità e soprattutto anche quel legame con la nostra città. In questo Natale l'augurio che rivolgo a tutti voi è proprio quello di viverlo in serenità e quindi allora a tutti voi lasciatemi dire Buon Natale e che sia un Natale sereno.